ciao bambini oggi vi faccio vedere un nuovo gioco un prologo, è una specie di demo si, si chiama il nuovo gioco, lo proviamo insieme, dai va bene cioè, siamo in tipo in prigione si chiama stone shard prologo, play, vai giochiamo proviamo bambini wow damn it, dove sono? sei awake, proprio in tempo per il ritual avremo un uso per te molto pronto non proviamo qualcosa vabbè non stiamo a leggere bambini cursi allora proviamo il lettario va bene ah devo togliermi le catene ok, ci togliamo le catene e ce ne andiamo come ci si muove no, come ci si muove aspetta no cos'è questo? un cadavere? allora, c'è un corpo non so, sta dormendo sta dormendo bambini sta dormendo ve lo dico io allora prendiamo questo tizio che dorme ah, c'ha degli attrezzi per scassinare beh, non andiamo avanti veloce no, non si muove così si muove così ok dobbiamo aprire un inventario ma è questa la verità e fare applica a questo poi aperto bambini andiamo, andiamo, andiamo spero che non sia solo per salvare ma è solo se non ho vissuto cosa è sta cosa no abbiamo una barra abbiamo preso delle cose, si boh quindi, c'è ci sono delle robe proviamo a romperle ci sono dei soldi prendiamo dei soldi questo non si può rompere niente tutto chiuso andiamo ci muoviamo un po' queste selle ci muoviamo tipo passettini ma non è che c'è da lottare qualcosa vediamo niente cacchio ci hanno scoperto l'ho scoperto devo premere cos'è LMB bambini ma con questo vedo tutto ma io non ho armi prendiamo un tubo prendiamo un tubo inizio oh bambini andiamo combattiamo bambini boom fatto fuori prendiamo il suo robo ok va bene bambini l'abbiamo l'abbiamo scampata proviamo a mangiare 55 non cambia niente andiamo a bere un po' un po' ecco un po' va bene lasciamo è chiusa mmm usiamo queste perfetto andiamo bambini usciamo da questa piazza l'abbiamo scena questa cosa sto usando ok questa via freghiamo detect trap ah questa è la trappola ci sono andato sopra vabbè lasciamo stare facciamo una trappola ok andiamo 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 avanti qua c'è le statistiche mi sono fatto male la gamma mi posso curare no ci sono delle cose importanti prendiamo qui è un gioco carino tipo a caselle a turni una specie di di gioco da tavola bambini non so se oh finalmente delle armi serie ok accettiamo anche le scarpe no questa non mi piace non mi piace perché ho due mani io voglio l'arco e le frecce ah ok l'arco le frecce e la katana ok va bene questo non so cos'è splint la medicina ok io direi di curarci non so come fare ma dobbiamo curarci per un secondo allora prima avevo fatto qualcosa che mi ha oh ok vediamo se riesco sulla gamba no sulla gamba oh perfetto sono guarito questo cos'è antidoto perfetto sono guarito bambini sono proprio in forma per essere ancora più in forma potete fare così perfetto e iniziamo pronti ancora sì adesso sì questo è un tubo lo lasciamo qua questo lo lasciamo qua questo lo lasciamo qui le catene le tengono loro magari se vogliamo possiamo provare anche scudo e spada e ci riportiamo dietro ci deve essere un tasto per switchare arma ah così questo ah l'arco ok no io voglio cambiare arma facciamo ma ecco qua perfetto chiuso dall'altra parte credo che però qui il nostro amico crimaldello non serve a niente no aspetta fermi prendiamo l'arco niente preso no boom ho fatto fuori bambini com'è vi sta piacendo questo gioco bambini bambini a pyromentic treatise c'è c'è l'arco e l'arco inizio e e un altro un altro dice di prendere l'inventario e leggere ah, ho imparato una magia la magia del fuoco ok bambini, scusate ci sono ho imparato la magia del fuoco, va bene ok, si, ce l'abbiamo la magia del fuoco non so come si fa, vediamo eccola qui, leveling backstab, sword, ascia scudo, staff eccola qua, pirome, eccola fuoco va bene, proviamo un fuoco bambini, proviamo questo incantesimo che abbiamo appena scoperto qui, aspetta che c'è qualcosa qua ma che si, cosa vuoi servire per fare soldi adesso mettiamo la cola chiediamo perché non si sta mai questo cos'è un libro di cosa va cos'è il diario c'è un buco bambini usciamo vecchia catacomba via 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 di qui bambini ok, siamo arrivati alla fine augurato buona fortuna qui Buongiorno. dobbiamo andare di qua, non so dove andare non so se è un mega labirinto facciamo mangiare il fuoco non male wow non male, non c'è un'altra abilità carino questa è la pergamena? no, vabbè andiamo via sempre chiuso questa è la forte questo è un po' pieno di roba devo lasciare qualcosa questo qua lo posso identificare non c'è il piano ho sbagliato ok bambini andiamo giù, ok l'abbiamo trovato ci andiamo giù trema tutto qua, qua c'è qualcuno che dorme e freghiamo la tonica ma si rivediamo con l'arco questo glielo freghiamo questo glielo freghiamo questo anche tanto lui sta dormendo non se ne fa niente guarda, gli regaliamo anche questo e questo molto carino ciao grazie mille ah che un bel dagger scendiamo ancora più in profondità bambini andiamo, andiamo, andiamo andiamo, andiamo andiamo vabbè per il momento credo che siamo bene non mi ricordo oh cacchio wow ho fatto fuori tutti si, ho fatto fuori tutti fuoco 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 spada questa è molto meglio questa è molto meglio pieno di roba faccio in sicurezza vabbè niente non c'è niente assolutamente niente ok apriamo ok apriamo ecco ecco qui ci sono le scherzo dobbiamo andare di lì però sono curioso sono curioso vediamo cosa c'è qua ah può fallire può fallire questo è un apparecchio schifoso questo è un apparecchio schifoso che ci sono è tutto bloccato va tutto pieno di roba non c'era assolutamente niente qua dentro no potremmo aspettare prima di tutto potrei leggere questo no non mi ha insegnato niente questo non mi ha insegnato niente la storia dei libri non l'ho capita posso mangiare questo posso cuore questo e posso usare questo uno due va bene va bene andiamo che è tardi andiamo 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 ok ma da un quanti cadavere ammassati oddio come se arriviamo al boss ah veden sei vivo no oh ah so ha no oh oh no io che adesso lo è oh è Grazie. Grazie. Allora, va a dire, qua bisogna stare attenti alle pozze di sangue e ai due lati che escono i zombie. Lui è protetto da uno scudo, quindi non sapeva niente. Però, visto che le sue pozze di sangue fanno fuori i suoi zombie stessi, avete visto? Uh, che centro! No, iau ia, iau ia, iau ia. Ma? Ma ci deve essere un modo, ho capito, ma... Ho capito! Ho capito, bambini! Spaccare questo! Noi, non lo so, non lo so, non lo so. Ok. Non lo so, non lo so. Siiii! Non so se riesco a prendermi una funzione al volo. Non so se riesco a fare un incontenzimo. Non so se riesco a prendermi una funzione. è diventato un mostro schifosissimo bambini via 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 no ho fatto fuori bambini fortissimo bene dai direi che è durato pure troppo come sempre un fallimento però 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 bello bello dai carino non è male questo gioco non è bellissimissimo però non è non è male va bene ci vediamo alla prossima ciao bambini fate i bravi